Ci troviamo nella darsena nautica di Levante dove abbiamo appena concluso l'intervento P3117 che riguardava la demolizione degli ultimi 10 metri della testata della banchina ovest e l'approfondimento fino a meno 6 metri di profondità. L'intervento ha permesso di migliorare l'accessibilità alla darsena nautica, infatti è stato ampliato di circa 10 metri il canale d'ingresso. Inoltre l'intervento consente al vicino impianto di ship lift dei cantieri Navaglia Mico di raggiungere la sua massima potenzialità potendo servire imbarcazioni con lunghezze fino a 110 metri. L'intervento è anche propedeutico per tutta una serie di lavorazioni legate alla futura realizzazione della torre piloti del porto di Genova. L'intervento è composto da due macrofasi principali, la prima ha visto il taglio della sovrastruttura di banchine del muro paraonde tramite disco diamantato e cavo e la relativa demolizione delle opere emerse e la seconda fase che invece ha visto la demolizione delle opere sott'acqua tramite anche l'ausilio dei sommozzatori della Barracuda Sub. Infine è stata realizzata una soletta orizzontale e una parete verticale di consolidamento per la porzione di banchina che rimane in essere.